Interviene Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana, liberi e uguali. In questi mesi si sono espletati e conclusi diversi concorsi pubblici nelle varie ASL della regione con l'assunzione di un numero rilevante di operatori sanitari. Le modalità di assegnazione delle sedi lavorative ai vincitori di concorso da parte delle varie ASL è stato spesso disomogeneo ed in alcuni casi non rispettoso delle volontà e delle preferenze dei lavoratori, anche tenendo in considerazione il posto in graduatoria. Pertanto noi di Sinistra Italiana, liberi e uguali, abbiamo presentato un'interrogazione urgente al presidente Emiliano nella sua veste di assessore alla sanità. A breve le ASL della Puglia procederanno all'assunzione di numerosi infermieri attingendo dalla graduatoria del concorso unico regionale della ASL Bari e altresì in fase di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e quindi di indizione il mega concorso per l'assunzione di circa 2.500 OS in tutta la regione. Pertanto è necessario creare criteri trasparenti, oggettivi ed imparziali nell'assegnazione delle sedi lavorative prevenendo comportamenti che possono nascondere favoritismi e clientelismo. Nella nostra interrogazione come Sinistra italiana liberi e uguali, conclude Borracino, abbiamo chiesto al presidente Emiliano quali azioni intende porre in essere per garantire comportamenti imparziali e trasparenti nell'assegnazione delle sedi lavorative ai vincitori di concorso pubblico e se intende emanare una circolare al fine di rendere uniformi e trasparenti i comportamenti delle varie ASL della Puglia.